La mia attività inizia nel 1998, quando ho acquistato questa farmacia. L'inizio non è stato semplicissimo perché venivo da un altro mondo. I nostri servizi sono diversi e vanno dalla telemedicina, quindi oltre cardiaco, pressorio, elettrocardiogramma, a servizi di autoanalisi, quindi per tutto quello che riguarda il bicemia, colesterolo, esame delle urine, PSA. Offriamo servizi di misurazione della pressione e foratura dei lobi. Ci siamo avvicinati alla medicina funzionale e questo ci permette di offrire delle consulenze personalizzate per cercare di risolvere al meglio determinate problematiche. Ci troviamo a Castelbellino Stazione, vi aspettiamo sia fisicamente in questo luogo oppure potete seguirci su Facebook alla pagina Farmacia Falaschi.